Ciao a tutti, siamo Yardan, io sono Alessandro, io sono Alessio. Dunque, la nostra band si è formata intorno al 2015 e negli anni successivi praticamente abbiamo registrato il nostro primo album, Voyage d'Una Sonnui. È un concept album che parla principalmente di astronomia, dello spazio, narra la storia, una storia, come un po' in un libro, di un bambino che cresce con un sogno e che è quello di diventare astronauta. Il disco è già uscito, è uscito circa il 14 di aprile. In formato CD e anche in una limitatissima edizione, un'edizione super limitata, in cassette, in musica 7. Ci è venuta questa idea un po' perché siamo rimasti affezionati a questo tipo di supporto, un po' perché ci ricorda un po' la nostra infanzia. Abbiamo avuto la possibilità di stamparne 50 copie che sono già praticamente andate a ruba, fortunatamente per noi. Conoscendo già MusicRacer abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea utilizzare questo tipo di piattaforma, quindi il crowdfunding, per appunto avere la possibilità e per dare la possibilità a chi ci ascolta di ricevere la propria copia in musica 7, quindi di stamparne di più, per più persone e in maggiore qualità. Oltre alle cassette abbiamo pensato ad altre sorprese per voi che potete trovare qui sotto. Insieme alle cassette abbiamo ancora copie in CD, t-shirt e abbiamo pensato anche a qualcosa di un po' più particolare che speriamo apprezzerete. Grazie mille per la pazienza, speriamo che ci aiuterete in questo progetto. Ciao, a presto!